Un tiro in allontanamento, diciamo in corsa, con la mano forte senza il contender davanti era un po' più semplice Arriva di Carolla, il blocco di Vangelo, viene la tripla, viste Marri viene chiuso da Mastoleni, Marri che aveva battuto lo suono Attacco a dir poco inceppato, quello dell'XL Extra Light e poi Bossi da 8 metri Assolutamente equilibrata ma ci provo con la specialità della casa Bossi Versor che poi innesca gli E.D.O. insomma lo sente un po' svagato adesso Ancora Bossi Ritorno sulle parche, intanto Mines per Cagliari, Bossi con l'esitation, riesce ad andare E' arrivata anche una mezza stoppata da parte di Gianni Lizze, pallone vivo, Bossi da 3 Questa è una tripla che fa molto molto male Più fa, non lo scarico per Savantino, poi Bossi da 3 punti, solo rete per Stefano Bossi